E' Stefano Buzzi, già sessore nella giunta a Casanova, il quinto candidato alla poltrona di sindaco di Lodi. Scende in campo, come è noto, per il movimento Italexit di Gianluigi Paragone. Stefano Buzzi, candidato sindaco a Lodi per Italexit. Come mai questa scelta? E' una scelta di libertà, di difesa dei valori costituzionali, che va a favore delle fasce deboli che sono state calpestate da questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno di fatto impoverito progressivamente di democrazia lo Stato italiano e quindi la base elettorale. Da Fratelli d'Italia Italexit non è stato semplice? No, non è stato semplice assolutamente, anche perché ricordo che sono stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia qui in città cinque anni fa. Ma quando un partito tradisce in maniera plateale quelle che sono le aspettative della base dell'elettorato, quando una classe dirigente nazionale e regionale si rende proprio complice del governo che dovrebbe combattere, allora vuol dire che probabilmente ho sbagliato io cinque anni fa e ho corretto l'errore abbracciando l'idea di Gianluigi Paragone. La lista è pronta? Da chi è composta questa lista? È una lista variegata che prende da liberi professionisti, professionisti avvocati, commercianti, mondo dello sport, impiegati, pensionati. È una lista abbastanza composita di persone che condividono molto da punto di vista emotivo questa idea. E li vedo belli sul pezzo e quindi questo mi fa proprio piacere perché sono circondato da persone ottime. Ringrazio nel particolare Domenico Sino e Cristiano Schiavi, ringrazio Alessandra De Cuglia e Cristina, che ci hanno, Sofientini, che ci hanno praticamente aiutato e hanno reso possibile la creazione di questa bella squadra qui. E aggiungo che come segretario provinciale ho anche avuto la soddisfazione di vedere avvicinarsi molti appassionati di tal exit dalla provincia, da Codogno, da Osago, da Lodivecchio, si stanno avvicinando e stanno prendo sezioni nei vari paesi della provincia. E questo mi fa molto piacere e mi fa anche sperare bene. Il programma per i prossimi cinque anni è già pronto e quali sono le prime cose che farete? Guardi, il programma è in fase di definizione, se vogliamo essere proprio precisi. Il programma c'è, ovviamente le idee ci sono, stiamo limandole, eccetera. Ma la cosa che mi preme ribadire è che saremo dalla parte della gente, avendo avuto questa esperienza per quasi cinque anni come assessore alle politiche abitative, questo mi ha permesso di capire i bisogni reali della cittadinanza. Quindi avremo un occhio di particolare riguardo sul sociale, questo è fuori di dubbio, avremo un occhio di particolare riguardo per le attività produttive della città, cercheremo di svecchiare quelli che sono i regolamenti comunali, che sono piuttosto faraginosi e burocratici da interpretare e da dare poi una risposta veloce al cittadino. Cercheremo di fare questi rendendo l'amministrazione pubblica decisamente più trasparente.